Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e anche su Facebook. Prima di iniziare voglio ringraziare lo sponsor di questo video, ovvero HelloFresh. HelloFresh è un servizio che vi permette di ricevere direttamente a casa vostra una box con tutto l'occorrente per preparare piatti gustosi e sempre diversi con le ricette da seguire passo a passo. Scegliete le ricette ed HelloFresh vi consegna direttamente tutto a casa. Troverete tutti gli ingredienti già porzionati. In questo modo eviterete gli sprechi. Questo è un servizio che si adatta al vostro stile di vita, ai vostri impegni. Potete fare degli abbonamenti settimanali e poi se volete potete sospenderli. Non siete quindi obbligati ogni settimana ad acquistare una box. Volete ad esempio acquistare una box solo una volta al mese? Con HelloFresh è possibile e tra l'altro le ricette sono una più buona dell'altra. In realtà adoro cucinare ma non ho molto tempo per farlo. Inoltre fatico a variare e alla fine mi ritrovo a cucinare sempre le stesse cose. Se anche voi siete sempre di fretta potete scegliere le ricette che si preparano in poco tempo. HelloFresh rende la cucina casalinga più accessibile e in meno di 25 minuti avrete la vostra cena pronta per essere gustata. Gli ingredienti sono di stagione e di alta qualità e le ricette sono equilibrate e ricche di verdure. Inoltre diciamolo, avrete notato anche voi che i prezzi al supermercato sono un tantinello levitati, vero? Ma con HelloFresh potrete cucinare cene buonissime a prezzi fissi. Uso questo servizio da ormai un paio d'anni, vi assicuro che i prezzi non sono affatto aumentati. Potete scegliere tra diversi menu, c'è quello dietetico, vegetariano e per bambini. Troverete ogni settimana 20 nuove ricette tra cui scegliere. Inoltre questo servizio prevede la consegna a domicilio, farete meno soste a scegliere. Se volete ordinare una box anche per voi vi lascio il link in descrizione. Inserite il mio codice sconto OCCIOCREEPY per provare la prima box a metà prezzo. In più avrete il 25% di sconto sulle successive 3 box. In più, per la prima box la spedizione sarà gratuita. Io ringrazio nuovamente HelloFresh per aver scelto il mio canale per questa sponsorizzazione e detto questo diamoci dentro col video. Il criminale di cui vi parlo oggi è stato definito come uno dei più oscuri e spietati della storia britannica. Ha nascosto la sua depravazione dietro l'apparente normalità di uno studente universitario ingannando le sue vittime per compiere atti indicibili. Reinhard Sinaga nasce il 19 febbraio 1983 e cresce in Indonesia, una città di nome Jambi, situata sull'isola di Sumatra. Qui vive con i suoi genitori e i suoi tre fratelli più piccoli. Reinhard trascorre un'infanzia che possiamo definire stabile. La sua è una famiglia molto ricca, il padre è un uomo d'affari di successo, infatti lavora presso alcune delle più grandi banche indonesiane. Possiede una piantagione di olio di palma, oltre a un'estesa attività immobiliare. La famiglia Sinaga vive in una grande villa e ha a disposizione servitori e autisti. Reinhard ha sempre ottenuto dai suoi genitori tutto ciò che desidera, non deve far altro che chiedere e in un battito di ciglia sarà accontentato. Questo tipo di vita lo fa sentire fin dalla tenera età potente e intoccabile. Ha la convinzione di poter fare qualsiasi cosa. La famiglia Sinaga è composta da cattolici devoti che frequentano la chiesa ogni settimana. Reinhard ama suonare il pianoforte e viene descritto come un ragazzino piuttosto timido e riservato. Non si mette mai nei guai, anzi si pone sempre in modo gentile. Si dice però che preferisca uscire da solo perché non gli interessa fare amicizia. Apprezza maggiormente la compagnia di un buon libro da leggere per ore e ore. Reinhard frequenta una scuola elementare privata ed è un bravissimo studente, sempre il migliore della sua classe, incredibilmente intelligente. Tuttavia è costretto ad affrontare un periodo buio in quanto subisce degli episodi di bullismo. Questo perché preferisce giocare con le ragazze piuttosto che socializzare con i maschi e anche perché adora le Spice Girls. A parte questo brutto capitolo, l'infanzia del bambino procede normalmente e lui conduce una vita da autentico privilegiato. Arriviamo al 2000, quando Reinhard si diploma al liceo e continua a studiare architettura presso l'Università dell'Indonesia. I suoi compagni di università lo descrivono come un ragazzo popolare, un po' stravagante, ma molto socievole. Appare come una persona con cui è facile andare d'accordo, una caratteristica opposta rispetto alla riservatezza che contraddistingueva Reinhard da bambino. All'università, infatti, stringe amicizia con tanti studenti e ottiene ottimi voti. Al termine del suo percorso, quando si laurea, decide di voler continuare gli studi all'estero. Così si trasferisce negli Stati Uniti e inizia a frequentare un college totalmente pagato dai suoi genitori. Tuttavia, non molto tempo dopo il suo arrivo in America, cambia idea. Considera questa realtà inadatta a lui. Il ragazzo sostiene che gli studenti negli Stati Uniti diano un po' troppe feste e non riesce a entrare in sintonia con i suoi compagni, così torna in Indonesia. Non ha alcun ripensamento, anche se i suoi genitori hanno speso tantissimi soldi per permettergli di frequentare il college negli Stati Uniti. A lui, però, non importa. Sa che può ottenere quello che vuole e per lui quell'investimento non ha significato niente. Reinhard intanto torna in Indonesia, ma desidera ancora viaggiare e studiare all'estero. Stavolta decide di trasferirsi a Manchester, nel Regno Unito, munendosi di un visto studentesco. Si iscrive all'Università di Manchester per conseguire un master in pianificazione territoriale. Qui si trova bene e fa parecchie amicizie, arrivando anche ad apprezzare la vita notturna, nonostante negli Stati Uniti odiasse le feste. Reinhard a questo punto della sua vita decide di esplorare la propria sessualità. Lui è gay e sa di esserlo, ma non è mai riuscito a fare coming out perché in Indonesia sarebbe stato disapprovato. Questo vuol dire che prima d'ora non si è mai sentito a suo agio, ma adesso che si trova a Manchester, avverte di poter essere finalmente se stesso, dichiaratamente omosessuale. Reinhard stringe un legame solido con un gruppo di amici con cui va in discoteca ogni sera. Si reca spesso al Gay Village di Manchester ed è molto felice, si diverte tantissimo e in piena libertà. Gli amici che lo circondano infatti lo descrivono come un ragazzo aperto, amichevole e vivace. Nei successivi tre anni Reinhard continua sia a studiare sia a uscire per far festa. Riesce a completare due master. Il primo, che vi ho già menzionato, era incentrato sulla pianificazione urbanistica e territoriale. Il secondo, invece, sulla sociologia. Come sempre, le risorse economiche per sostenere questi master provenivano dai suoi genitori. È una rara opportunità quella di conseguire due master consecutivi nel Regno Unito, ma Reinhard ama studiare e ha il lusso di poterlo fare tanto, contando sulla ricchezza della sua famiglia. A dirla tutta, lui apprezza soprattutto il non assumersi la responsabilità di trovarsi e mantenersi un lavoro. Meglio vivere la vita dello studente e andare in discoteca tutte le sere. Arriviamo al 2011. Reinhard ormai ha 28 anni ed è ancora iscritto all'università. In questa fase della sua vita si verificano diverse novità. Completa un altro master? Lascia l'alloggio per studenti in cui risiedeva e si stabilisce in un piccolo appartamento a Princess Street, che si colloca al centro della città, quindi è anche molto vicino ai bar e alle discoteche. Anche l'appartamento in questione viene pagato dai suoi genitori e sarà molto significativo per gli sviluppi di questo caso. Si presenta però un problema. Reinhard si trova nel Regno Unito soltanto con un visto per studenti, ma ormai ha finito gli studi e non ha ancora trovato un lavoro, quindi sta per essere espulso dal paese. Pur di impedire che questo accada, rincomincia a studiare. Nel 2012 Reinhard fa richiesta per un dottorato in geografia antropica, che però va completato all'università di Leeds, che si trova a un'ora di macchina da Manchester, dove Reinhard vive. Piuttosto che trasferirsi, lui sceglie di rimanere a Manchester, nell'appartamento in cui vive già, facendo il pendolare per raggiungere Leeds. Così i successivi tre anni. Reinhard studia per il dottorato di ricerca, continuando a vivere come uno studente. In questo periodo però, pare che la sua personalità inizia a cambiare. Chi lo frequenta crede che stia diventando incredibilmente narcisista, ama parlare di se stesso, è molto vanitoso e si definisce posh spice, con un rimando a Victoria Beckham delle Spice Girls. Non c'è serata in cui Reinhard non esca e va in giro per i bar o le discoteche chiedendo agli sconosciuti di fare un selfie con lui. In pratica vuole postare queste foto sui social media per dare a tutti l'idea di essere molto popolare. Dunque in questo periodo fa tante nuove conoscenze, ma non ha più quel gruppo fidato di amici più intimi. Sembra che adesso nessuno lo conosca poi così a fondo e lui fa di tutto per ottenere attenzioni. A questo scopo utilizza soprattutto i soldi che continua ad attingere dai suoi genitori. Reinhard indossa solo vestiti firmati e offre drink e cibo a chiunque pur di farsi degli amici. E in tanti gli chiedono da dove arrivi tutto questo denaro, dato che lui è uno studente disoccupato. Allora Reinhard decide di mentire raccontando che lavora per il Manchester United e per il Manchester City Football Club. Coltiva anche un paio di relazioni sentimentali in questo periodo, ma viene descritto come un partner possessivo e appiccicoso. Durante una di queste storie Reinhard minaccia il suo ragazzo dicendogli che se lui lo lascerà berrà della candeggina. Usa anche frequentemente le app di incontri come Grindr ed è parecchio attivo sui social media. Si vanta anche della sua vita amorosa e intima con le persone che considera amiche, ma in realtà si tratta di semplici conoscenti. Intanto il suo rapporto con la famiglia si è complicato. Non chiama spesso i genitori e quando lo fa è sempre solo per un motivo, chiedere soldi. In qualche rara occasione Reinhard torna in Indonesia per stare con la sua famiglia, ma prima di partire deve assumere un altro aspetto e nascondere il suo orientamento sessuale, per cui cambia pittinatura e guardaroba. Non ha ancora fatto coming out e gli preme mantenere il suo segreto. Quando lo rivede la sua famiglia lo trova strano, prova a convincerlo a restare in Indonesia per ricoprire un ruolo nell'azienda di famiglia, trovare una moglie e avere dei figli. Sua madre è molto insistente a riguardo, tanto che lo minaccia di non dargli più i soldi necessari a proseguire i suoi infiniti studi nel Regno Unito. Ma la donna in realtà non ha il coraggio di concretizzare queste minacce e alla fine il figlio rimane in Inghilterra. Arriviamo alla fine del 2014. Reinhard è tornato da poco dall'Indonesia, ormai ha 31 anni ed è uno studente da oltre dieci anni. In questo momento ha una vita sotto le coperte molto attiva, ma la sua personalità comincia a manifestare un lato scuro. Ora, non è chiaro quale sia stato il fattore scatenante, ma un giorno Reinhard esercita violenza intima per la prima volta su una persona che ha adescato. Sembra che succeda all'improvviso perché non si è verificata una lenta escalation di reati. Eppure, lui premedita il crimine, pianifica l'intera aggressione. Alla vigilia di Capodanno del 2014, un ragazzo di 22 anni è fuori per festeggiare. Si sta divertendo con i suoi amici nella discoteca Ritz di Manchester e poco prima di mezzanotte va al bancone del bar per ordinare un drink. Poi, però, non ricorda più nulla di cosa gli è successo dopo. E questo accade perché Reinhard gli mette qualcosa nel bicchiere, lo porta nel suo appartamento e fa violenza su di lui mentre è privo di sensi. Preciso che non si conosce l'identità di quasi nessuna delle vittime di Reinhard, quindi purtroppo non posso dirvi i loro nomi. Comunque questo ragazzo di 22 anni si risveglia il giorno dopo mentre giace nel proprio vomito sul pavimento dell'appartamento di Reinhard. Non ha la minima idea di come si è finito lì. Come detto, l'ultima cosa che ricorda è di aver ordinato un drink al bar la sera prima. Prova a riprendersi, si guarda intorno e individua Reinhard, quindi gli chiede Che diavolo ci faccio qui? Reinhard gli spiega che la sera prima era troppo ubriaco, stava per svenire, così lui lo aveva gentilmente portato nel suo appartamento, gli aveva offerto un posto tranquillo dove stare, anche se poi il ragazzo aveva perso conoscenza sul pavimento. Purtroppo la vittima di Reinhard gli crede. È convinto di aver bevuto troppi drink la sera prima, così lo ringrazia pure. Crede che Reinhard gli abbia risparmiato di svenire in discoteca, o peggio, per strada, e chissà quali rischi avrebbe potuto correre. Il ragazzo è completamente inconsapevole di aver subito violenza intima e per ben due episodi. Così si scusa un'infinità di volte con Reinhard per l'inconveniente, recupera le sue cose e se ne va. Una volta, solo Reinhard manda un messaggio sul gruppo WhatsApp, che condivide con alcuni amici, vantandosi delle sue imprese della sera prima. Gli amici, però, capiscono che lui avesse avuto un rapporto consensuale con un ragazzo. Infatti, Reinhard non racconta l'oscura verità. Afferma soltanto che non ha ricevuto nessun bacio durante la notte di Capodanno, ma ha già consumato il primo rapporto del 2015. Si sente soddisfatto dell'essersi approfittato di un giovane primo di sensi e da questo momento non si ferma più. Già quattro settimane dopo replica lo stesso attacco. La vittima, stavolta, è un ragazzo di 21 anni che si trova fuori da una discoteca a Manchester, insieme ad alcuni amici. Anche lui ha bevuto un po' troppo, così Reinhard riesce a mettergli una sostanza stordente nel bicchiere. Lo porta nel suo appartamento e si approfitta di lui più volte, mentre è privo di sensi. Tuttavia, durante una delle violenze in corso, la vittima si sveglia e prova a scappare, ma si rende conto di essere sotto l'effetto di qualche sostanza che lo confonde. Inoltre, Reinhard usa il suo peso per trattenerlo. La seconda vittima, alla fine, sviene nuovamente e si risveglia nelle stesse condizioni della prima, a terra, nell'appartamento di Reinhard. Anche questo ragazzo non sa spiegarsi cosa fosse successo. Ricorda che la sera prima stava bevendo insieme ai suoi amici, ma ora si è svegliato nell'appartamento di un uomo sconosciuto, mai incontrato prima. La storia che gli racconta Reinhard non cambia. Gli dice che la sera prima era molto ubriaco, così l'aveva portato nel suo appartamento per consentirgli di riprendersi in un posto sicuro. Allora, anche questo ragazzo si scusa con Reinhard per il disturbo e poi lascia l'appartamento. Un altro aspetto sconcertante di questa vicenda è che Reinhard vive con un coinquilino, quindi nell'appartamento è presente un'altra persona anche durante le violenze. Il coinquilino in effetti inizia a insospettirsi percependo questi uomini che appaiono nel bel mezzo della notte. Chi sono? Allora Reinhard, che non ha di certo problemi economici, non ci pensa due volte a cacciare il coinquilino indiscreto. Così si ritrova con l'appartamento tutto per sé. Da questo momento in poi, Reinhard aumenta la frequenza delle sue aggressioni. Infatti passa solo una settimana prima che individui la sua terza vittima. Ogni assalto ricalca lo stesso modello. Il molesto inizia la preparazione della serata nel proprio appartamento a Princess Street. Gli basta affacciarsi alla finestra per osservare la movida di Manchester. Accanto a casa sua c'è una discoteca e lui scruta la gente in fila che aspetta di entrare, riuscendo a capire chi ha bevuto troppo dalla camminata barcollante, oppure individua qualcuno che si è separato dal proprio gruppo di amici. Reinhard rimane a spiare la scena attraverso la finestra anche per ore. Poi, appena individua una vittima, lascia l'appartamento e le si avvicina. Le conversazioni che intavola con i ragazzi che intende ad escare sono sempre le stesse. Interpreta la parte del brav'uomo e si finge preoccupato per loro. Si avvicina e chiede, tutto bene? Mi sembri un po' perso. Hai bevuto troppo? Dovresti venire a casa mia. Puoi prendere qualcosa per stare meglio. Il tuo telefono sarà quasi scarico. Hai bisogno di un caricabatteria. Oppure domanda, dove sono i tuoi amici? Non riesci a contattarli? Puoi chiamare un taxi. Perché non vieni ad aspettarlo nel mio appartamento? La maggior parte delle volte la vittima prescelta ha davvero bisogno dell'aiuto che Reinhard offre. Desidera un bicchiere d'acqua per smaltire la sbornia. Oppure necessita di un caricabatteria perché il cellulare è scarico e non sa come rintracciare i propri amici. O ancora, perché vuole chiamare un taxi e, quando è inverno, preferisce aspettarlo al caldo. Reinhard si comporta in modo carismatico e amichevole. Non assume un atteggiamento intimidatorio, per cui le sue prede accettano facilmente di farsi ospitare da lui. Ma ogni volta che Reinhard riesce a portarle nel suo appartamento, la seconda fase del piano ha inizio. Quasi tutte le vittime di Reinhard hanno un profilo simile. Innanzitutto sono per la maggior parte eterosessuali, perché a Reinhard piace vantarsi con i suoi amici, dicendo di essere riuscito a cambiare le preferenze di questi ragazzi, che si sono riscoperti gay perché troppo attratti da lui, quindi curiosi di esplorare un nuovo versante della loro sessualità. In secondo luogo si tratta di ragazzi molto giovani. L'età media delle sue vittime è di 21 anni, anche se spazia dai 17 anni ai 36 anni. Ancora, buona parte dei ragazzi che riesce ad attirare nel suo appartamento sono studenti, un aspetto che non sorprende se consideriamo la zona che lui è solito frequentare. Provengono da svariati ceti sociali, alcuni sono personal trainer, altri chef, altri membri delle forze armate, ma hanno tutti una corporatura simile, che Reinhard descrive come quella del maccio atletico e attraente. Una volta nell'appartamento dell'uomo, le vittime trovano tutto in disordine, con oggetti e vestiti sparsi ovunque e grandi quantità di alcol in vista. L'uomo continua a fingersi un buon samaritano, esorta le prede a sedersi sul divano e rilassarsi. E offre a tutte un drink alcolico. Alcuni ragazzi o uomini lo rifiutano e chiedono un bicchiere d'acqua, ma in ogni caso accettano sempre di bere qualcosa, che sia alcolico o meno. Purtroppo non si rendono conto che nel bicchiere è contenuta una sostanza che gli farà perdere coscienza. Questo tipo di sostanza si configura come un liquido trasparente, in odore e in sapore. Ecco perché è molto difficile da individuare e percepire. Al massimo, da quanto ho letto, il drink con l'aggiunta di questa sostanza assume un gusto leggermente più salato. Una persona sobria potrebbe accorgersene, ma sappiamo che Reinhard sceglie soggetti che sono già molto ubriachi e che, infatti, non notano nulla di sospetto. L'uomo tende a offrire drink alcolici perché mascherano ancora meglio il gusto della sostanza rispetto alla semplice acqua. La sostanza in questione si utilizza per scopi medici, come per trattare la narcolessia, e, in quantità ridotte, anche per scopi ricreativi, in quanto produce un effetto simile a quello dato dall'alcol. Chi ne usufruisce in dosi contenute si sente euforico, rilassato e avverte come ridotte le proprie inibizioni. L'effetto si manifesta molto rapidamente e sopraggiunge nel giro di circa 10 minuti. Tuttavia, se assunta in dosi massicce, questa sostanza rende il soggetto incosciente e gli risulterà impossibile ricordare cosa gli fosse successo dopo che si riprende. L'effetto scaturito può durare per ore intere, ma non è rilevabile nell'organismo. Il possesso di questa sostanza è illegale nel Regno Unito e comporta una pena detentiva minima di 5 anni. Ma Reinhard, presumibilmente attraverso acquisti irregolari, riesce a procurarsela in grandi quantità. Infatti la usa su tutte le sue vittime. Quando comincia a miscelarla a un drink, attiva la seconda parte del suo piano. Ma come fa ad assicurarsi che il suo cocktail abbia fatto effetto? Beh, rivolge alle sue vittime una serie di domande pressanti, molto pressanti, per testare la loro capacità cognitiva. Tramite alcune registrazioni effettuate proprio da Reinhard e conservate nel corso del tempo, basta ascoltare la voce delle vittime per capire se la sostanza stia facendo effetto. Tuttavia Reinhard ricorre a queste domande, per lo più personali, anche per ottenere maggiori informazioni sulle sue prede. A Reinhard piace collezionare dei trofei, per cui ruba gli effetti personali delle sue vittime, come la carta d'identità, le carte di credito, il passaporto o altri oggetti che fanno parte dell'abbigliamento. Chiaramente non è interessato al bottino economico, ma a conservare qualcosa che simboleggi una nuova conquista. Ed è per tale ragione che si sente gratificato dalle registrazioni in cui dialoga con le vittime. Queste e gli altri trofei sono custoditi in una scatola riposta sotto il letto. Tornando alla prossima fase del suo piano, man mano la vittima si sente sempre più assonnata. Allora Reinhard può arrivare alla parte che preferisce, quella dell'aggressione intima. E, tra l'altro, ama filmare l'assalto che compie su ogni singola vittima, utilizzando ben due telefoni. Appoggia il suo iPhone 6 sul comodino per riprendere l'intera aggressione a maggiore distanza, poi tiene nella mano un secondo telefono, un iPhone 4 di colore bianco, per filmare la violenza in primo piano. Inquadra il viso della vittima oppure il suo amico e riguarda spesso i video per poter rivivere l'esperienza. Purtroppo per le sue vittime alcuni di questi video durano ore. C'è una registrazione in particolare dalla durata di 8 ore consecutive. E questo significa che i ragazzi vengono aggrediti per un lunghissimo lasso temporale, senza che Reinhard si fermi mai, anche se loro rimangono incoscienti. Reinhard quindi aggredisce più volte le sue vittime nell'arco di una notte e tutte le violenze iniziano nello stesso modo. Si filma mentre infila un dito nell'ombelico del ragazzo prescelto, per assicurarsi che sia sveglio. Quando ha conferma della sua incoscienza, lo prende in vari modi e non indossa mai il preservativo. Le aggressioni sono molto violente. Spesso le vittime sanguinano, altre vomitano a causa degli effetti generati dalla sostanza, ma rimangono completamente fuori di sé. Dunque non si rendono conto di ciò che sta succedendo. E neanche in questi casi Reinhard si ferma. Lui, come mostrano i video girati e le foto scattate, ha un debole per gli ombelichi delle vittime. Chiaccarezza, bacia e lecca, ma lo attirano anche i capezzoli. In un filmato invece si vede Reinhard che preme la mano sulla bocca della vittima mentre la p***a. Insomma, avrete intuito che queste riprese sono molto invasive e lui si assicura di ottenere la migliore inquadratura e di sfruttare la massima luce. Nei video si nota anche che alcune vittime russano. Altre si svegliano ma perdono di nuovo conoscenza durante l'assalto. Per renderle inermi come prima, Reinhard le trascina in giro per casa e impedisce loro di scappare. In una registrazione in particolare si sente la vittima che si sveglia e inizia a ripetere No! 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 Ma Reinhard non si ferma. Il ragazzo ad escato riesce addirittura ad attivare Siri dal suo telefono, ma purtroppo non è in grado di far partire una chiamata per chiedere aiuto. Infatti si sente la voce dell'assistente virtuale che dice Scusa, non ho capito la tua domanda. E si disattiva. Questa vittima subisce violenza per ben otto volte durante quella notte. E il giorno dopo, al suo risveglio, non ricorda cosa gli fosse successo, come era arrivata in quell'appartamento, come capita a tutte le prede adescate da Reinhard. I ragazzi non hanno la minima idea di essere stati immolestiti intimamente, anche se chi ha subito un assalto più violento sospetta qualcosa. I ricordi di ognuno sono diversi. Una vittima ricorda di aver bevuto whisky nell'appartamento di Reinhard e di essersi svegliato il giorno dopo nella totale inconsapevolezza. Alcune vittime non sono quasi in grado di muoversi quando si svegliano, a causa degli effetti del farmaco. Sono assalite dal terrore, ma non sanno di aver subito violenza. Un altro uomo ha messo piede nell'appartamento di Reinhard alle 4.30 di notte e quando si è svegliato ha avuto la sensazione di essere rimasto in quella casa soltanto per 20 minuti. Ma le telecamere a circuito chiuso dell'abitazione mostrano che la vittima ha lasciato l'appartamento alle 10 del mattino successivo, il che significa che è rimasta nella casa di Reinhard per circa 5 ore. Era triste anche pensare che queste vittime si sono pure sentite in colpa per aver disturbato Reinhard, per aver passato la notte nell'appartamento di uno sconosciuto, facendo preoccupare i propri amici o le proprie fidanzate. Reinhard, come detto, racconta alle sue prede sempre la stessa storia dopo il loro risveglio e cioè che durante la notte vagavano in strada troppo ubriache o in procinto di svenire, così lui si era preso cura di loro. Il molletto cerca di sembrare carismatico e affascinante, si stampa sul viso un sorriso amichevole e non si pone mai in maniera minacciosa, quindi tutte le vittime finiscono col credere alle sue parole. Tornano così alle loro vite mentre Reinhard non viene mai denunciato alla polizia, nonostante qualcuno avesse nutrito un leggero sospetto che gli fosse successo qualcosa di invasivo. Ma questo sentore si chiude nel silenzio, nel solo intento di dimenticare la notte appena trascorsa, di lasciarsela alle spalle per sempre. Quindi Reinhard continua ad aggredire ragazzi e uomini innocenti e il numero delle sue vittime aumenta incredibilmente, arrivando a più di 100. Un giorno un giovane studente sta camminando per la città di Manchester quando avverte che qualcuno gli picchietta improvvisamente il dito sulla spalla. Si volta e intravede Reinhard che ha 30 anni ma d'aspetto sembra più giovane per cui il ragazzo lo scambia per un coetaneo. Ecco un altro vantaggio che sfrutta il predatore, apparendo come un tipo innocuo. Con una scusa, Reinhard attira il ragazzo nel suo appartamento e lui si sveglia direttamente la mattina dopo provando un forte imbarazzo perché apprende di essere svenuto a casa di uno sconosciuto. Non ha idea di aver subito un'aggressione. Un altro studente invece sta aspettando in strada la propria ragazza ma Reinhard gli si avvicina e gli suggerisce di attenderla nel suo appartamento al caldo. Il ragazzo lo segue, frequenta l'università da appena una settimana ed è curioso di conoscere nuove persone e nuovi luoghi dove far festa. È convinto che anche Reinhard sia uno studente che lo sta invitando in casa propria per fare amicizia. Anche a lui il predatore somministra la solita sostanza e lo studente ricorda di aver perso conoscenza nell'appartamento e di essersi svegliato direttamente il giorno dopo con Reinhard che lo accarezzava sul letto dove era disteso. Così si era alzato e aveva lasciato quella casa il più velocemente possibile. Non sapeva di essere stato aggredito per tre volte. Un altro studente universitario si trova alla fermata dell'autobus quando Reinhard riesce ad attirarlo nel suo appartamento e lui si risveglia lì, completamente nudo. C'è vomito ovunque e i suoi vestiti sono ammocchiati nei paraggi. Lo studente si riveste disorientato e anche lui se la dà gambe. A differenza degli altri è convinto di aver subito violenza intima. Quando torna a casa dalla sua fidanzata è costretto a restare a letto per tutto il giorno per smaltire gli effetti della sostanza. Va incontro a due attacco di panico forti perché è molto ansioso ma non vuole parlare di ciò che è successo. Come detto alcune vittime di Reinhard sospettano di aver subito violenza intima e adesso un paio di loro si rivolgono alla polizia ma non ottengono aiuto come purtroppo accade spesso quando sono gli uomini a dire di aver subito una morte. Un'altra vittima è un uomo che sta per diventare padre. Si sta godendo una serata con gli amici ed esce dalla discoteca per comprare le sigarette ma siccome non conosce bene la zona si perde. Non riesce a contattare gli amici dato che il suo telefono ha la batteria scarica. Allora Reinhard gli si avvicina e gli propone di fare un salto nel suo appartamento per caricare il cellulare. La vittima accetta, beve qualche drink insieme a Reinhard e scambia con lui una conversazione amichevole manifestando la propria immensa felicità di diventare padre. Ha addirittura con sé l'icografia del bambino e la mostra al predatore. Pensa che Reinhard sia una persona davvero gentile, poi perde i sensi. Si sveglia ore più tardi in un letto estraneo senza avere idea di come fosse arrivato lì. Reinhard gli dice come al solito che aveva bevuto troppo la sera prima ed era svenuto sul letto. Anche lui non immagina di essere stato aggredito intimamente più volte durante la notte. Quest'uomo ha avuto un'ottima impressione di Reinhard. È convinto che sia un bravo ragazzo, così lo abbraccia e lo ringrazia di essersi preso cura di lui. Infine se ne va. In un'altra occasione Reinhard prende di mira un ragazzo di soli 17 anni che sta frequentando il college ed è in giro con gli amici. Bevono tutti un po' troppo, come nota il predatore, dalla finestra del suo appartamento. Infatti stanno camminando in modo scomposto. Questo ragazzo non ricorda nulla di quanto gli è capitato. Sa solo di essersi svegliato per terra a casa di Reinhard. Che per lui è uno sconosciuto. Si ritrova con i pantaloni calati e c'è dell'urina su tutto il pavimento. Stavolta il predatore tira su il ragazzo e gli chiede dei soldi per ripulire il disastro che ha fatto. Come detto, le vittime di cui vi sto parlando sono anonime. Non sono note le loro identità. Nessuno di loro ha voluto farsi avanti pubblicamente dichiarando di essere stato vittima di Reinhard. A parte un uomo di nome Daniel. Daniel incontra Reinhard nel 2015 e sta passando la serata fuori per festeggiare il compleanno con il suo ragazzo e alcuni amici. Beve parecchio e lascia la discoteca. Si apparte in un vicolo da solo per fumare un po' di sostanzina leggera. Mentre aspetta il taxi che dovrebbe riportarlo a casa. Così viene avvicinato da Reinhard che riesce ad attirarlo nel suo appartamento. Gli offre un drink con all'interno la sostanza che gli fa perdere i sensi. Poi lo aggredisce. La mattina dopo Daniel si sveglia sul divano di una casa che non riconosce. È completamente vestito e accusa i postumi di una sbornia che lui definisce infernale. Si sente molto intontito ma pensa di aver bevuto troppo la sera prima così rimane sdraiato per circa 10-15 minuti nel tentativo di rimettere insieme ricordi. Con la coda dell'occhio scorge dei piedi che si muovono nell'appartamento e viene assalito dal panico. I pensieri si infittiscono nella sua mente. Non sa dove si trova e c'è uno sconosciuto che vaga in quella casa. Teme che gli farà del male. Daniel non sa che del male quell'uomo gliel'ha già fatto ma quando intravede che quei piedi si allontanano dalla stanza si solleva di scatto e corre fuori dalla porta principale. Riesce a chiamare un taxi e telefona anche al suo ragazzo che è molto arrabbiato con lui perché la notte prima è scomparso. Non ha risposto più al telefono e si è addirittura svegliato nell'appartamento di uno sconosciuto. Il suo ragazzo teme che l'abbia tradito poi Daniel lo raggiunge a casa e parla con lui della situazione. Pur non avendone la certezza il fidanzato sospetta che a Daniel sia successo qualcosa che il proprietario di quella casa gli avesse messo una sostanza stordente nel drink per poi aggredirlo intimamente. Daniel gli assicura di no non l'ha tradito e almeno non di sua spontanea volontà perché non lo farebbe mai e poi mai. La coppia prova a lasciarsi alle spalle questa brutta serata perché Daniel non ne vuole più parlare, non ha intenzione di andare dalla polizia, almeno per adesso. Daniel però non è l'unica vittima che si farà avanti, infatti succederà anche a Michael, un 21enne che si trova a Manchester per passare una serata con gli amici. Alle 4 di notte il ragazzo si rende conto che il suo telefono è scarico e ha perso di vista gli amici, così entra in un ristorante d'asporto e chiede in prestito un caricabatteria. A questo punto Reynard fa la sua apparizione, si avvicina a Michael e lo invita nel suo appartamento per permettergli di ricaricare il cellulare. Michael pensa che sia strano il comportamento di questo sconosciuto. Reynard gli sembra completamente sobrio per cui si domanda che cosa ci fa questo tizio solo e lucido alle 4 del mattino in un takeaway? Tuttavia siamo sempre lì, insomma il ragazzo non si sente minacciato da Reynard che si pone come uno studente amichevole, così Michael accetta di recarsi nel suo appartamento per caricare il cellulare. Dopo poco tempo Reynard gli offre un drink, ma Michael rifiuta. Allora Reynard gli chiede se gradisce uno shot e Michael rifiuta di nuovo. Reynard non è abituato a questa situazione perché le sue prede accettano sempre qualcosa da bere. Reynard allora propone a Michael, visto che è tardi, sono tipo le 4 di notte, di rimanere a dormire da lui se vuole. Michael allora ricomincia a considerarlo strano e lo assale una strana sensazione, percepisce che qualcosa proprio non va. Siccome ormai il suo telefono è tornato abbastanza carico, scrive un messaggio agli amici segnalando la sua esatta posizione e lascia rapidamente l'appartamento di Reynard. Michael non pensa più di tanto a questo strano incontro perché spesso capita di incontrare persone un po' inquietanti. Non sa che è appena sfuggito al predatore più prolifico della storia del Regno Unito. Infatti le aggressioni di Reynard continuano. Ormai attira in casa sua almeno una persona settimana e la cifra delle vittime aggredite si sta paurosamente avvicinando a 200. Sono ormai due anni che Reynard esercita violenza su dei ragazzi innocenti e la quantità delle vittime di cui è riuscito ad approfittarsi oltrepassa ogni statistica, soprattutto considerando un lasso di tempo così breve. Non stiamo parlando di un aggressore che ha agito per 10 anni e mentre di notte attacchi i ragazzi di Manchester, Reynard continua a vivere una vita tutto sommato normale, monotona durante il giorno. È ancora uno studente e sta cercando di conseguire il dottorato e lavora nella sua tesi che si intitola. Sessualità è transnazionalismo quotidiano tra gli uomini gay e bisessuali dell'Asia meridionale a Manchester. Il suo elaborato ha un'impronta nettamente narcisistica perché Reynard sta praticamente scrivendo di se stesso. Infatti quando la presenta per la prima volta al relatore nell'aggosto del 2016 la tesi viene rifiutata. Deve assolutamente sistemarla. Intanto è sempre molto attivo sui social media. Crea e pubblica video brevi in cui ballo, fai lip sync delle canzoni, probabilmente per destinarli a TikTok. Si riprende anche mentre si reca al centro di Manchester, affermando quanto ami questa città perché qui si sente a casa. Inoltre Reynard continua a vantarsi delle sue conquiste sui gruppi Whatsapp che condivide con gli amici. Non rivela mai che si tratta di aggressioni ma sottolinea che la sua vita sessuale è attiva, fantastica e si spinge anche a inviare diverse foto di una sua vittima priva di sensi facendo credere che stia dormendo. In altre occasioni parla di sottrarre i ragazzi omosessuali alle loro fidanzate e scrive questo messaggio. Ieri sera c'era qui un ragazzo di 19 anni che ha litigato con la sua fidanzata noiosa e fastidiosa. Reynard racconta che il ragazzo ha spento il cellulare per potersi divertire un po' con lui, lontano dalla sua ragazza. La realtà è che gli ha messo la solita sostanza del bicchiere per aggredirlo. Reynard manda un ultimo messaggio sul gruppo Whatsapp dei suoi amici in cui scrive «Sono super rei salvo i ragazzi etero dalle loro mostruose fidanzate». Si definisce anche Robin Hood e afferma «rubo agli eterosessuali per darlo ai gay». In altre occasioni fa riferimento al fatto che avrebbe una pozione segreta capace di far innamorare i ragazzi eterosessuali di lui. I suoi amici però non possono intuire che questa pozione segreta è proprio la sostanza che usa per far perdere conoscenza a tutti gli uomini che entrano nel suo appartamento. E continua a scherzare sulla questione quando un amico gli chiede se possa andare a trovarlo. Infatti Reynard risponde «No, no, non puoi venire qui perché altrimenti vedrai tutti i corpi ammucchiati sotto il mio letto». Siamo ormai nel 2017. Reynard ha 34 anni e i suoi crimini si intensificano progressivamente perché la sta facendo Franca da tanto tempo. Come accade a molti serial o predatori, diventa sempre più arrogante e convinto che rimarrà libero e impunito per il resto della sua vita. E questo lo porta ad agire con superficialità, a essere incauto. Infatti, sempre più vittime si risvegliano durante l'aggressione, ma a lui sembra non preoccupi che vedano la sua faccia durante gli assalti. Reynard non si ferma, consapevole che la preda presto sverrà di nuovo. Una delle sue vittime si sveglia e capisce di essere stata aggredita, perché ricorda vagamente qualcosa, ma non vuole andare dalla polizia e parlare dell'accaduto, proprio come è successo ad altri. Reynard sta riuscendo ad attirare gli uomini nel suo appartamento in tempi record. Viene infatti ripreso dalle telecamere di sorveglianza, mentre lascia l'abitazione per poi tornare con una vittima solo 60 secondi dopo. E riduce anche i tempi da un assalto all'altro. In un'occasione adesca due uomini diversi nell'arco di 24 ore. Il primo lo aggredisce di sabato sera, l'altro di domenica sera. Inoltre anche la durata delle aggressioni aumenta, ad esempio una vittima viene molata per 7 volte nel giro di 8 ore, un'altra viene tenuta prigioniera, sedata e violata più volte nell'arco di ben 15 ore. Quindi Reynard si snoda dai confini della violenza intima a quelli del rapimento. Come detto, l'uomo conserva numerose prove digitali perché registra tutto. Persino l'attacco ha durato 15 ore. Ha raccolto e archiviato una marea di foto e video su dei dischi esterni. Un'altra sua attitudine inquietante è quella di seguire le sue vittime sui social media. Gli piace controllare e tenere d'occhio le loro vite. E la sua presuntuosa sicurezza di Reynard diventa tale che una sera attira nel suo appartamento due uomini, contemporaneamente, fa perdere i sensi a entrambi e si altera nell'aggredire l'uno e l'altro mentre filma tutto come al solito. E se finora in pochi, dopo il loro risveglio, hanno avuto il presentimento che gli fosse successo qualcosa, ma non lo hanno detto, adesso tutto sta per cambiare. Questi due uomini, infatti, sono certi di essere stati aggrediti. Decidono di andare alla polizia per denunciare il molestero, ma la polizia, purtroppo, non riesce a rintracciare Reynard. I due uomini che hanno sporto denuncia si sono svegliati nell'appartamento di uno sconosciuto e sono stati assaliti dalla sensazione di aver subito un'aggressione, per cui sono fuggiti immediatamente da quella casa e sono andati dritti alla polizia. Tuttavia, sono disorientati a causa degli effetti della sostanza e ora non riescono a ricordare dove si trovi esattamente l'appartamento da cui sono scappati. La polizia in realtà prova a indagare, ma non ha a disposizione né un'indicazione precisa sulla collocazione dell'appartamento, né il nome dell'autore del reato, né una sua descrizione dettagliata. Grazie all'analisi forensi, dalla vittima si riescono comunque a recuperare alcune tracce di seme dell'aggressore. Il DNA ricavato in realtà viene inserito nel database, ma non emerge alcuna corrispondenza in quanto Reinhardt non è mai stato arrestato. Quindi mancano sia sufficienti indizi per identificare il colpevole, sia piste tangibili da seguire. È il primo giugno del 2017, quando un diciottenne di cui non è nota l'identità, ma che si fa chiamare Peter, è in giro a festeggiare con i suoi amici perché sta per conseguire il diploma di maturità. Peter gioca nella squadra di rugby locale, ha una corporatura atletica e sta passando la serata a bere in un locale che si trova accanto all'appartamento di Reinhardt. A mezzanotte e trenta, Peter ha già bevuto tre birre e una lemon vodka. Non è ubriaco, ma si sente un po' brillo e accaldato. Esce quindi a prendere una boccata d'aria, si ferma in un vicolo e si siede sul marciapiede per riprendersi. Reinhardt lo osserva dalla finestra del suo appartamento e in pochi minuti fa la sua apparizione nel vicolo. Si siede a fianco a Peter e inizia a parlargli. Si pone come sempre in modo amichevole e gli chiede come sta. Immagina che sia uno studente e di conseguenza gli domanda come vanno i suoi studi. Reinhardt parla a Peter anche del proprio discorso universitario e i due intrattengono una conversazione piacevole che dura circa dieci minuti. Quando Peter pensa ormai che Reinhardt sia una persona gentile, il predatore lo invita nel suo appartamento per rinfrescarsi. Peter accetta dicendo che chiederà ai suoi amici di andarlo a prendere fuori dall'appartamento prima di rincasare. Le telecamere a circuito chiuso lo riprendono mentre entra in casa con Reinhardt. Peter va subito in bagno e quando torna Reinhardt sta versando un liquido trasparente in due bicchierini. Quella sembra vodka, così Peter lo beve senza fare troppe domande. Poi il padrone di casa gli offre un altro bicchiere, questa volta con dentro del liquido rosso e di nuovo Peter accetta. Ma dopo pochi minuti il ragazzo inizia a sentirsi stordito e nauseato, non riesce a pensare lucidamente. La stanza gli sembra roteare intorno ai suoi occhi, è come se si fosse ubriacato tantissimo nel giro di un istante. Allora Peter recupera il suo telefono per chiedere aiuto e manda dei messaggi a sua mamma per farle sapere dove si trova. Perché sente che la situazione sta sfuggendo al suo controllo. Reinhardt intanto gli si avvicina lentamente, gli prende il telefono dalle mani e gli dice straiati, rilassati, cerca di calmarti. Peter al contrario si alza per dirigersi verso la porta d'ingresso, ma non riesce a uscire perché collassa cadendo a terra. Reinhardt come con ogni vittima lo aggredisce più volte e allo stesso tempo si filma. È intenzionato ad andare avanti per tutta la notte, ma dopo quattro ore Peter si sveglia. Si trova a faccia in giù su un cuscino e si rende conto che i suoi pantaloni e la sua biancheria intima sono abbassati fino alle caviglie. Capisce di essere stato aggredito intimamente, tuttavia invece di cedere alla sonnolenza come le altre vittime quando si risvegliano, Peter è carico di adrenalina e pienamente cosciente della situazione. Così si alza e Reinhardt rimane completamente bloccato. Non gli era mai successo prima e non sa cosa fare, così corre fuori dalla stanza. Peter si tira sulla biancheria intima e i pantaloni e inizia a prendere le sue cose. Intanto Reinhardt torna di corsa nella stanza per gridare a scorciagola «C'è un intruso!» Cerca di far credere a chiunque riesca a sentirlo che Peter sia un ladro e lui la vittima. Reinhardt prova anche a placare Peter a terra, gli dà una testata sul naso e lo morde, ma il ragazzo reagisce. Assesta a Reinhardt un vigoroso pugno, gli dà una gomitata e scalcia cercando di liberarsi. Riesce a spingere Reinhardt sul letto, ma quest'ultimo gli si aggrappa la maglietta e lo trascina sopra di lui. Reinhardt quindi lo morde di nuovo, ma Peter non si arrende e continua a prenderlo a pugni per abbatterlo e avere la possibilità di scappare. Peter cerca di nuovo di afferrare le sue cose freneticamente, incluso un telefono. Non dimenticate questo particolare. Infine, fugge. Sta per raggiungere la maniglia della porta d'ingresso quando Reinhardt gli salta sulla schiena e ricomincia a morderlo. A questo punto, Peter pensa che Reinhardt sia intenzionato a ucciderlo, visto che lui lo ha visto in faccia e si è reso conto di essere stato aggredito intimamente. Reinhardt sa che Peter vuole correre dalla polizia per denunciarlo e che può fornire una descrizione minuziosa del molestimento e anche la posizione del suo appartamento. Vi ricordo però che Peter è un giocatore di rugby, ha una corporatura piuttosto massiccia, sicuramente più di quella di Reinhardt che è esile. Il 18enne riesce quindi a sopraffare il suo aggressore. Lo prende a pugni senza mai fermarsi, rallenta solo quando sente che Reinhardt sta mollando la presa. Ora è Reinhardt quello disteso a terra e privo di sensi. Peter riesce finalmente a scappare da quell'appartamento maledetto e cerca di capire cosa sia più giusto fare. Siccome Reinhardt verse in uno stato terribile dopo le botte, Peter teme di averlo ucciso. La prima cosa che fa quindi è provare a usare il proprio telefono, ma è di nuovo completamente scarico. Così corre verso l'appartamento accanto a quello di Reinhardt e inizia a bussare alla porta, alle 5 del mattino. Il vicino una volta aperto la porta deve aver osservato Peter terrorizzato perché il ragazzo ha addosso parecchio sangue di Reinhardt. Peter lo implora di lasciarlo entrare, gli spiega che è stato aggredito intimamente e ha davvero bisogno di chiamare sua madre. Il vicino si tranquillizza un po' perché Peter gli sembra davvero spaventato così lo fa accomodare in casa. Peter chiama immediatamente sua mamma per chiederle di raggiungerlo. Vuole soltanto tornare a casa e dimenticare questa orribile serata. Tuttavia, siccome ha picchiato duramente Reinhardt, chiama il 999 e chiede un'ambulanza affinché venga assistito. Quando arrivano i soccorsi, Peter si trova in piedi nel corridoio del condominio ricoperto di sangue. È lui stesso a mostrare la strada per l'appartamento di Reinhardt ai soccorritori e spiega che quest'uomo lo ha aggredito intimamente e che lui lo ha picchiato per legittima difesa. I servizi di emergenza individuano Reinhardt sul pavimento. È ancora privo di sensi e non ha affatto un bel aspetto. Giace in una pozza di sangue. Anche la polizia arriva, arresta Peter e lo porta in centrale mentre Reinhardt viene trasferito all'ospedale. Durante l'interrogatorio, Peter continua a ripetere che è lui la vittima, che è stato assalito e ha colpito Reinhardt per legittima difesa. Ma la polizia purtroppo non gli crede, per via della differente costituzione fisica che hanno i due. Reinhardt è in pessime condizioni, non si sa se riuscirà a sopravvivere, mentre Peter è seduto alla stazione di polizia e si domanda se verrà accusato di omicidio. La polizia intanto lo accusa di essere andato da Reinhardt di sua spontanea volontà. Gli chiede se è gay, se lui e Reinhardt si fossero conosciuti su un'app di incontri ma l'appuntamento era finito male. Insomma, la polizia non ascolta seriamente Peter, tanto che non segue alcun tipo di esame per scoprire se il ragazzo ha davvero subito violenza. Piuttosto lo chiude in una cella e lo lascia lì per 11 ore. Vi ricordo che il ragazzo è stato aggredito intimamente più volte, ma viene trattato come un criminale quando è lui la vittima. Reinhardt nel frattempo è in ospedale e le sue ferite sono gravi. I dottori sospettano che abbia un'emorragia al cervello e dopo alcune ore lui si risveglia, si gira verso l'infermiera presente nella stanza e chiede Cos'è successo? Sono stato aggredito? Siccome appare indifeso, le infermiere si rapportano a lui con estrema sensibilità. Poi la polizia arriva in ospedale per interrogarlo e lui chiede agli agenti se possono andare nel suo appartamento per recuperare il suo cellulare. Dice che vuole contattare la sua famiglia per comunicare che va tutto bene. Ma noi sappiamo cosa contiene quel telefono. Infatti, la verità è che Reinhardt sta cercando di riappropriarsi del cellulare per cancellare tutte le prove contro di lui. La polizia consente, ma prima di riconsegnargli il telefono, lo informa che Peter l'ha accusato di violenza intima. Quindi bisogna preventivamente controllare il cellulare alla ricerca di eventuali prove. Gli agenti gli ripetono, ci dispiace, sappiamo che sei tu la vittima qui, ma dobbiamo sbrigare queste formalità. Dobbiamo controllare il tuo telefono. Reinhardt a questo punto si paralizza. La polizia ovviamente gli chiede il codice di accesso per sbloccare il telefono, ma lui fornisce soltanto numeri sbagliati. Gli agenti a questo punto iniziano a insospettirsi, poi Reinhardt si lancia addirittura contro l'ufficiale di polizia per tentare di strappargli il telefono dalle mani. Non ci riesce però perché un altro agente lo blocca e gli ordina di rivelare immediatamente il codice corretto. Reinhardt è costretto a obbedire, così la polizia scopre la tremenda verità. Trova il video in cui lui si approfitta di Peter, che è palesemente svenuto. Dunque Peter viene immediatamente rilasciato e sottoposto a degli esami per avere conferma della violenza intima che ha subito. Già, è davvero lui la vittima. Reinhardt allora viene arrestato, ma rimane ammanetato al letto d'ospedale perché non si è ancora ripreso del tutto. Dopo la dimissione verrà portato alla stazione di polizia. Intanto le rivelazioni per la polizia non sono affatto finite, perché sa che Reinhardt ha aggredito Peter, ma non immagina neanche lontanamente l'entità dei suoi crimini. Quando Peter viene rilasciato fa una scoperta inaspettata. Gli vengono restituite le sue cose e a quel punto si rende conto che, mentre stava freneticamente fuggendo dall'appartamento di Reinhardt, per sbaglio aveva preso il cellulare del molestero. Un iPhone 4 bianco. Voi sapete che con questo telefono Reinhardt filma i primi piani delle vittime. E ora la polizia deve esaminarlo. Riesce ad accedere senza che sia necessario inserire alcun codice e si aspetta di trovare ulteriori prove dell'aggressione ai danni di Peter. D'altronde il telefono di Reinhardt che la polizia ha già ispezionato conteneva soltanto foto e video del diciattenne, di certo perché Reinhardt aveva già spostato e archiviato altrove il materiale relativo alle precedenti vittime. Invece su questo telefono bianco sono ancora presenti moltiplici foto e video e la polizia non riesce a credere ai propri occhi. Perché Reinhardt si è immortalato mentre fa violenza su centinaia di uomini. Gli agenti si rendono conto di essersi imbattuti nel peggior predatore seriale del Regno Unito. Così entrano in azione. Si dirigono nuovamente nell'appartamento di Reinhardt e raccolgono una valanga di ulteriori prove. Repertano vari dischi rigidi ripieni di filmati, per l'esattezza individuano più di 800 video, tutti relativi alle violenze intime risalenti agli ultimi due anni e mezzo e dalla durata di ore e ore. Si evidenziano poi migliaia di foto e vengono trovati anche tutti i trofei di Reinhardt, le carte di identità o di credito, i passaporti e le patente di guida delle vittime. Le prove digitali ammontano a 3 terabyte, mentre le riprese video equivalgono a 330 DVD. La polizia scopre anche che Reinhardt ha monitorato le sue vittime sui social media. Grazie ai video e alle foto analizzate, la polizia riesce a identificare almeno 200 vittime individuali, anche se il numero potrebbe essere molto più alto. Ora gli agenti hanno davvero tante domande da fare a Reinhardt, intanto sua madre arriva dall'Indonesia e si rifiuta di credere che il suo amato figlio abbia commesso questi crimini. Afferma che no, non è possibile perché lui è un ragazzo gentile, quindi deve esserci un errore. Quando la polizia interroga Reinhardt per la prima volta, non lo mette al corrente di tutto quello che ha scoperto, né il tentativo che sia lui ad aprirsi il racconto. Quindi l'interrogatorio inizia con delle domande riferite soltanto a Peter e Reinhardt se ne esce con una versione ricca di assurdità. Afferma che loro due hanno avuto dei rapporti consensuali. Dice che si sono incontrati per strada, che si sono ritirati insieme nel suo appartamento, cioè lui non l'ha mica obbligato, insomma. La polizia gli chiede se è sicuro di quello che sostiene, dato che nei video che ha girato, Peter non si muove, cioè è chiaramente privo di sensi. La polizia gli mostra persino il video, ma Reinhardt ripete No, assolutamente no, è sveglio! Guarda, è chiaramente sveglio! A questo punto Reinhardt inizia a piangere, cerca di fare la vittima per giocarsi la carta della compassione. Ma poi la polizia mostra a Reinhardt tutti i video che lo incriminano. Anche quelli sarebbero stati rapporti consensienti? Perché pare che tutti i ragazzi o gli uomini ripresi, nessuno escluso, fossero privi di sensi. Così Reinhardt si ammutolisce. L'unica risposta che fornisce ogni singola domanda è No comment. Rimane in custodia in attesa del processo. Intanto la polizia deve provare a identificare tutti gli uomini e i ragazzi che appaiono in quei video. Questa è un'operazione importantissima che richiederà molto tempo, data la quantità di filmati di cui la polizia è in possesso. Gli agenti sono costretti a guardare e studiare ogni singolo video e riescono a identificare alcune vittime anche basandosi sui documenti che Reinhardt aveva conservato nel suo appartamento. Ma lui non ha rubato i documenti a tutti. Alla fine vengono identificate con certezza 130 vittime su 200, le quali vengono contattate e informate dell'aggressione intima subita. La maggior parte di loro neanche immagina il motivo per cui viene convocata in stazione di polizia. Non ha la minima idea di essere stata vittima di una violenza carnale. Dunque possiamo ritenere che questi uomini abbiano manifestato una reazione di shock. Stavano vivendo la loro giornata normalmente ma la polizia gli ha improvvisamente aperto gli occhi su un capitolo buio della loro esistenza che nemmeno ricordano. La polizia mostra a tutti gli uomini convocati una foto di Reinhardt e alcuni di loro hanno frammenti di memorie sulla propria presenza nel suo appartamento ma non riescono a ricordare l'aggressione. La maggior parte preferisce non visionare il video che riprende la violenza subita ma a tutti vengono mostrate delle foto che li raffigurano privi di coscienza. Soltanto loro infatti possono riconoscersi oltre ogni dubbio in quelle fotografie. E sono certa che per gli uomini adescati da Reinhardt è stato un momento molto traumatico. Orribile. Hanno dovuto identificare se stessi come vittime di una violenza intima messa in atto mentre erano incoscienti. Come detto, alcuni uomini ricordavano vagamente l'aggressione ma non riuscivano a capire se fosse stata reale. Per loro, paradossalmente, è un sollievo venire a sapere la verità, avere una certezza al 100% visto che non riuscivano a smettere di pensare a quella notte nel vano tentativo di ricordare di più. Tutti questi uomini devono superare un'esperienza traumatica. Molti soffrivano già di depressione ma non riuscivano a parlare di quello che gli era successo. Altri temevano di non essere creduti. Altri ancora erano convinti che Reinhardt l'avrebbe fatta franca, che sarebbe comunque tornato a essere un uomo libero. Una delle vittime di Reinhardt è così turbata dalla scoperta di aver subito violenza per tre volte che si è recato da diversi medici per chiedere se potesse farsi rimuovere il colon. Un altro uomo ha cercato di togliersi la vita il giorno di Natale. Un anno dopo, nel giugno del 2018, ha inizio il processo contro Reinhardt Sinaga. La portata di questo processo non ha precedenti nel Regno Unito. Il caso riguarda 200 vittime e 48 di loro si fanno avanti per testimoniare. Per garantire che ogni singolo testimone possa avere il suo spazio per esprimersi in tribunale, il caso deve essere suddiviso in quattro procedimenti separati che sommati corrispondono a una durata di quasi due anni. E alla fine, purtroppo, Reinhardt viene accusato soltanto delle violenze intime collegate alle vittime che si sono fatte avanti per testimoniare, che non sono poche. Per carità, stiamo parlando di 48 persone, ma non rappresentano nemmeno un quarto del totale. Considerando unicamente queste vittime, i reati sessuali commessi dall'imputato ammontano a 159. Durante il processo, tutti questi uomini si fanno avanti con coraggio per condividere la loro storia, mentre la difesa di Reinhardt cerca di negare l'evidenza. Continua a sostenere l'assurdità che si fosse trattato di rapporti consensuali. Respinge ogni accusa affermando che tutte le vittime erano disposte a partecipare, che volevano dare forma a fantasie intime ai giochi che rientrano nella sfera del privato. Reinhardt sostiene di essere riuscito a trovare 200 uomini disposti a realizzare queste sue fantasie incentrate sulla volontà di avere dei rapporti con partner privi di sensi. Ma sarebbe stato soltanto un gioco di ruolo. Questi uomini, in realtà, erano svegli, stavano solo fingendo di essere incoscienti. Si evince che Reinhardt non mostra alcun rimorso né rimpianto durante tutti e quattro i processi. E poiché consiste sul fatto che ogni vittima fosse vigile durante l'atto, la giuria è costretta a guardare ogni singolo video per ottenere conferma che quegli uomini non avevano mai prestato il loro consenso. E tra le cose peggiori rientra che Reinhardt è felice che la giuria debba guardare tutti questi video in cui lui aggredisce delle persone innocenti e impossibilitate a difendersi. Alla fine dei quattro processi, nel febbraio del 2020, Reinhardt si naga viene dichiarato colpevole di tutte le accuse. Quest'uomo viene definito come il peggior aggressore intimo seriale condannato al mondo. In altre parole, è stato condannato per le violenze intime esercitate più di chiunque altro su tutto il pianeta, pur non essendo necessariamente il molestero più prolifico. Reinhardt viene condannato a 88 ergastoli simultanei e deve scontare un minimo di 30 anni di reclusione prima di poter richiedere la libertà condizionale. Onestamente questa cosa degli 88 ergastoli simultanei per poi avere un minimo di pena di 30 anni non l'ho capita. Non l'ho capita. Lo ammetto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Infatti, credo che questa pena non sia abbastanza perché Reinhardt potrebbe essere rilasciato sulla parola intorno ai 60 anni ed è un aggressore pericoloso che probabilmente minaccerà la società per il resto della sua vita a piede libero. Mi auguro davvero che quando ci sarà l'udienza per la sua libertà condizionale gli verrà negata per sempre. Le ripercussioni di questo caso si manifestano ancora oggi. Pensate che ben 60 vittime non sono ancora state identificate. Infatti, questo è un caso ancora aperto. Questa vicenda mi solleva delle riflessioni dalla natura complicata. Mi chiedo se sia meglio essere consapevoli di aver subito una tale brutalità da un essere mostruoso come Reinhardt oppure no. Era riuscito a farla franca per così tanto tempo. Di certo anche perché le sue vittime sono state tutte uomini e ancora oggi la violenza intima perpetrata su un uomo non viene presa abbastanza sul serio. Penso che se l'atteggiamento della polizia e della nostra società in generale fosse più disponibile nell'ascoltare gli uomini che denunciano le aggressioni carnali subite altri individui come Reinhardt non potrebbero mai cavarsela per così tanto tempo. Purtroppo spesso le vittime di violenza intima sentono di avere la colpa di quanto è capitato loro pensano di aver commesso qualcosa per meritarlo si sono vestite in modo provocante hanno bevuto troppo fino a essere ubriache hanno messo piedi in una zona poco sicura insomma si colpevalizzano ma questo approccio mentale va sempre combattuto non siamo responsabili del male che gli altri ci arrecano lo sono soltanto loro e in questo caso le vittime sono così tante anche se non conosciamo le loro identità sappiamo benissimo che tutti questi uomini hanno sofferto moltissimo alcuni hanno iniziato a usare delle sostanze o a bere smisuratamente per sfuggire ai problemi di malessere mentale che accusavano altri hanno abbandonato l'università o il lavoro molti vanno tutt'oggi in terapia la mia speranza è che ogni singola vittima di questo essere orribile prima o poi ritrovi la serenità con cui merita di vivere perché ogni essere umano è vulnerabile di fronte alle aggressioni intime detto questo io ho finito di parlare di questo caso che devo ammettere mi ha letteralmente lasciata senza parole 200 vittime forse di più ragazzi forse di più ragazze ragazze quindi è tostissima questa storia e penso a questi poveri uomini ragazzi che un giorno si sono sentiti la polizia dire ehi puoi venire un attimo in caserma che dobbiamo dirti una cosa anzi in stazione di polizia che dobbiamo dirti una cosa arrivano lì e scoprono di essere stati violati in questo modo è terribile è terribile e capisco che nessuno di loro abbia voluto visionare i video mi viene la pelle d'oca vi giuro quindi sono curiosa di sapere ovviamente quali sono le vostre opinioni sono curiosa di sapere anche se conoscevate questo caso quindi fatemi sapere le vostre idee le vostre sensazioni le vostre emozioni cosa avete provato ascoltando questo caso qui sotto nei commenti io vi leggo sempre tutti con molto piacere nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.